Giovedì a Teramo è prevista la seduta del Consiglio Comunale, tra le altre cose si parlerà del Presidente del Consiglio di Sabatino e vorrà fare l'opposizione qualche osservazione sull'annuncio fatto dal Sindaco Brucchi, finalmente il rimpasto, l'azzeramento di giunta previsto per il 15 gennaio? Finalmente il rimpasto, dice in realtà Brucchi oramai che fa questo annuncio ha un po' di tempo e lo fa generalmente per mantenere calma la sua maggioranza che rivendica posti in giunta o in altri luoghi, in realtà questa maggioranza non esiste più, il Sindaco deve prendere atto che non ha una programmazione a lungo termine per la città in un momento in cui invece si vive una difficoltà evidente di gestione anche economica del tessuto produttivo della città stessa e che deve prendere atto quindi che non può continuare a vivere la giornata e parlare solamente di rimpasto e poltrone per accontentare le varie anime che costituiscono la sua maggioranza deve fare una programmazione per la città seria se non è più in grado di farla perché in realtà non ha né uomini né programma né idee per questa città assumesse questa responsabilità e si dimettesse. Ecco su questo ci sono state molte polemiche sui mal di pancia all'interno del centrodestra stesso, cosa dovrebbe fare quindi a questo punto? Noi sappiamo bene che Brucchi non è stato eletto su una visione della città proiettata nei cinque anni di amministrazione e lo dico io che ci ho fatto una campagna elettorale contro lui è stato eletto perché aveva sette liste che facevano riferimento agli assessori regionali uscenti e al presidente uscente che in cinque anni poco hanno fatto per questa città e ancora oggi che non governano nulla sono praticamente incapaci a dare delle risposte questo è il vero problema, il problema vero di questa amministrazione è che loro non sono in grado di dare delle risposte non hanno una programmazione politica, hanno nove assessori che comunque hanno un costo. Quindi da parte dell'opposizione cosa dovrebbe fare entro il 15 gennaio? Si dovrebbe dimettere.